C'è un paese che non ha i quali sulla terra. Ripresa è dentro di noi. Non credo che si scoprirà che sono un ladro. Perché le ostriche non le ha inventate il PDL. Perché se ti senti tu un osso di sedia, non è che puoi raccontare e comunicare che sei un pesce guizzante. Mi voglio sposare con il mio compagno. Chiedere un secco. E si dice che per sopravvivere qui... No, io faccio il metà il meccanico. Bisogna essere matti. Ma che sfigato! Matti come un cavallo. E per fortuna io lo sono. Crozza nel Paese delle Meraviglie. Da venerdì 19 ottobre alle 21.10 sulla 7.